Musica Ora spostiamoci a Dolgiate e Rona dove qualche giorno fa è stata presentata la nuova campagna contro l'abbandono dei cagnolini Perché quest'anno ci occupiamo dell'abbandono dei cagnolini e dei cani La sensibilità sta crescendo in termini di popolazione Quest'anno abbiamo un comune in più, Gorla Maggiore, credo che l'obiettivo vero è dire ragazzi, per tutti i nostri concittadini, per gli animali stessi dare un segno di civiltà Il comune di Oggettolone e di Gorla Maggiore hanno pensato di rilanciare le iniziative per il 2007 a sostegno della sensibilizzazione contro l'abbandono e l'aduzione consapevoli dei cani randaggi Abbandonati sui territori dei due comuni con un concorso che è rivolto a circa 900 bambini che sono iscritti nella scuola primaria di Oggettolone oppure di Gorla Maggiore L'idea iniziale era di una figura un po' di un animale un po' triste Invece poi per i loghi successivi e quelli per la campagna per il concorso in particolare abbiamo pensato di dare un'immagine più allegra, divertente e positiva Anche per cercare di stimolare i bambini con questa figura a cercare un uomo che potesse esprimere la positività delle lecce E' il simbolo comunque dell'affetto che speriamo chi adotti sicuro questi cuccioli, questi cani, provi per loro L'unica cosa che cercano è un po' di bene da parte dei prossimi quadri